nuova polemica per edoardo donna maria questa volta però non c'entra il grande fratello vip programma di cui edoardo è stato uno dei protagonisti per quasi sei mesi bensì a scatenare le critiche del mondo del web è stato un commento condiviso dal volto di forum sotto una foto di tommaso zorzi nel post condiviso da zorzi si vedono i due amici insieme con aurora che sfoggia il pancione in tutto il suo splendore e con la scritta zio can't wait to meet you ovvero zio non vede l'ora di conoscerti la figlia di michelle unzicher ed eros ramazzotti infatti è all'ultimo mese di gravidanza e dovrebbe partorire un maschietto a tal proposito l'ex vippone ha commentato lo scatto con una frase che non è stata particolarmente gradita ma non è che sono due ha scritto alludendo all'ormai molto visibile pancione della ramazzotti al commento di donna maria è susseguita una pioggia di critiche secondo molti le parole di edoardo sono state totalmente fuori luogo e prive di tatto i commenti sul corpo sono sempre abbastanza spacevoli a maggior ragione se fatti nei confronti di una futura mamma che sta affrontando le settimane più dure della gravidanza ma che commento di poco tatto è ha scritto un utente e ancora queste non sono battute da fare ad una quasi mamma tuttavia c'è anche chi ha preso le difese dello speaker romano alcuni infatti hanno sottolineato l'amicizia che lo lega sia a tommaso che ad aurora motivo per cui probabilmente ha voluto scherzare e si è permesso di in ogni caso aurora non ha risposto al commento dell'ex gf no dunque non è ancora chiaro se abbia apprezzato o meno la butad aurora ramazzotti è ormai agli sgoccioli della sua gravidanza l'influencer si trova infatti all'ultimo mese e il parto è previsto per i primi di aprile la notizia dell'arrivo di un bebè ha portato un'immensa gioia a tutta la famiglia ma in particolar modo a mamma michelle attenzione Grazie a tutti. Grazie a tutti.